L'associazione è un momento storico importante, fa un salto di qualità, punta sull'innovazione e presenta un'app per smartphone, per i telefonini, l'app si chiamerà Basta Vittime 106, un'app che sostanzialmente ci metterà nelle condizioni di far viaggiare i cittadini sulla strada statale 106 in maggiore sicurezza perché sono più informati, sono più edotti su quelle che sono le criticità e allo stesso tempo mette nelle condizioni i cittadini di segnalare dei problemi e quindi di diventare parte attiva in questo processo di sicurezza stradale. Poi ovviamente ci saranno tante altre cose, i video sulla sicurezza stradale, un sacco di informazioni, news eccetera quindi è una bella iniziativa per noi importantissima e alla quale tenevamo moltissimo. Anche il studio 3A quindi dà un supporto gratuito a questa applicazione intervenendo da un punto di vista legale quale sarà il vostro ruolo? Il nostro ruolo sarà quello di mettere la nostra competenza di 20 anni di esperienza e la nostra società per azioni a disposizione di tutti i danneggiati che hanno dei diritti lesi. Abbiamo appoggiato l'iniziativa dell'associazione e rientra proprio anche nella nostra mission di cercare di tutelare i diritti dei cittadini e quindi il nostro compito, la nostra valutazione giuridica in questo campo sarà fondamentale. Anche nell'app ci sarà una sezione dedicata quindi a voi? Beh certo, ci sarà direttamente una sezione dove le persone, i cittadini possono chiedere direttamente aiuto e noi con i nostri consulenti presenti in tutta Italia riusciremo anche ad intervenire. Beh certamente l'app è un passo in avanti per offrire un servizio ai cittadini. Io ringrazio in modo particolare l'associazione Basta Vittime sulla 106 perché ha realizzato uno strumento utile che consente di fornire informazioni e oggi è al passo con i tempi. Un'app sul telefonino è ovviamente il massimo strumento che oggi di visibilità si può dare per la circolazione di informazioni riguardanti la questione della sicurezza sulla 106. È un'associazione molto attiva che fa proposte e questa ci sembra davvero molto molto utile oltre che interessante. Per quanto riguarda la sicurezza sulla 106 a che punto siamo? Il problema della sicurezza sulla 106 deve essere visto sotto due aspetti. Uno sotto il profilo della infrastruttura sicuramente inadeguata per assicurare standard di sicurezza elevati. Scontiamo anni di abbandono e di recente diciamo da un periodo abbastanza circostanziato l'arrivo del nuovo management sulla gestione dell'infrastruttura. Abbiamo sicuramente una maggiore attenzione che si dimostra con un quasi raddoppio degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, in particolare sulla 106 e anche per gli investimenti strategici che si stanno mettendo in campo e che riguardano il tratto che va da Crotone a Sibari dove sono previsti oltre 800 milioni di finanziamento sul nuovo accordo di programma quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e ANAS stessa senza trascurare il megalotto 3 tra le località di Sibari e Roseto Capospulico che se finalmente vedrà la luce ci consentirà di restituire alla Calabria un'infrastruttura importante che consente un collegamento alternativo tra la Sicilia e la Puglia tutto a quattro corsie.